Umbro ha riaperto dopo i lavori di restyling. Il nuovo Umbro si presenta con una gamma di prodotti più ampia, mantenendo la consueta qualità e l'attenzione per le produzioni locali. La bottega di Umbro si espande, diventando un elemento centrale nel format innovativo proposto al pubblico. La cucina di Umbro ritorna con la sua apprezzata e variegata offerta di ristorazione, disponibile sia a pranzo che a cena. Il bar di Umbro, oltre al tradizionale servizio di caffetteria e pasticceria, offre per l'intera giornata una gamma di nuovi prodotti orientati al gusto e alle nuove tendenze salutistiche. Gli aperitivi, e in particolare gli ormai noti apericena, ritornano con un'offerta ancora più invitante. Infine, continuano gli appuntamenti culturali, con spazi riservati a iniziative artistiche, oltre agli eventi musicali.